Patrice Durantini, vicepreside del Comprensivo 4 di Pescara, oggi una giornata importante per un progetto davvero lungimirante. I ragazzi impegnati in un'idea, in una programmazione di decoro del verde pubblico di Via Roma. Come è andata? L'entusiasmo, la gioia e anche la presenza numerosa di bambini e di adulti, perché sono qui a sostenere l'iniziativa, testimoniano che l'evento che dopo due anni riprende è un evento importante per la città, per la nostra utenza e siamo grati al dirigente che ha accolto nuovamente questa iniziativa, che la sua disponibilità ha permesso appunto di dare vita a questo evento, a questa giornata di festa. Nello specifico cosa hanno fatto i ragazzi? Allora, i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria hanno adottato, diciamo così, un alberello di Via Roma, di questa strada, e lo hanno decorato secondo una loro idea. Quindi vengono testimoniati i valori del Natale, ma anche i valori, potreste vedere, gli alberelli decorati con i valori proprio della libertà, della gioia, della felicità. Ci sono l'espressione proprio di quanto la scuola trasmette e in qualche modo viene poi ripresentato su questi alberelli. Assunta a Cantoli del Comprensivo 4 di Pescara, oggi c'è tanto entusiasmo tra questi giovani ragazzi che si sono impegnati per il decoro degli alberi di Via Roma. Effettivamente i ragazzini dell'istituto comprensivo 4 di Pescara si sono impegnati veramente tanto alla realizzazione di questo evento e hanno partecipato con entusiasmo, con grinta, dando un tocco di originalità, diciamo, alla città di Pescara, con il decoro degli alberelli e creando quasi, secondo me, un'atmosfera magica, natalizia, già una settimana prima che arriva Natale. Io sono veramente contenta e ringrazio un ringraziamento particolare alla dirigente, alla dottoressa Daniela Morgione che ha permesso, diciamo, la realizzazione di questo evento, al comune che ci ha dato l'autorizzazione, ai genitori, agli studenti e agli docenti. Nel decoro degli alberi di Via Roma hanno poi utilizzato tutti i materiali di riciclo, quindi davvero una cosa importante. Esattamente, sì, sì, si sono veramente impegnati veramente tanto, hanno utilizzato prodotti di riciclo dando appunto un tocco di originalità, diciamo, a tutti gli oggetti che hanno poi messo sugli alberelli. Insomma, una manifestazione da ripetere anche nei prossimi anni, magari potenziandola. Esattamente, questo è, diciamo, sono nove anni che facciamo, diciamo, questa manifestazione, anche se per tre anni è stata sospesa a causa Covid e quest'anno finalmente abbiamo potuto ripetere, diciamo, l'evento.